Serata in onore di Salvo Mandarà, organizzata da Tommaso Minnidi. Una grande serata a Roma, organizzata da Tommaso Minnidi per Salvo Mandarà. E io qua, come prologo, vorrei dire che spero tanto che quando io morirò, e presto morirò perché ho già 78 anni, vado verso gli 80. E Tommaso Minnidi faccia per me, Serafino Massoni, quello che sta facendo ora per Salvo Mandarà. Cioè la organizzi anche per me, per Serafino Massoni, una giornata in un bel teatro di Roma, in un cinema di Roma, per ricordare Serafino Massoni. Allora che mi scrive, che mi scrive, che mi scrive Tommaso Minnidi? Mi scrive che ci sarà una serata dedicata a Salvo Mandarà, il grande Salvo Mandarà, è organizzata da Tivivo, Tivivo è la tv di Tommaso Minnidi. Il 29 marzo, alle ore 18, sarà una serata di grande informazione, dedicata al compianto amico Salvo Mandarà. Si terrà presso il cinema, e Azzurro Scipioni, in via degli Scipioni 82, a Roma, con grandi ospiti, veramente grandi ospiti, Silvano Agosti, Massimo Mazzucco, il dottor Giuseppe Cocca, il dottor Stefano Montanari, il magistrato Paolo Ferraro, Mario Quaranta, Rosario Marcianò, e tanti altri. Conduce Tommaso Minnidi e le bellissime Francesca Romana e Alice Pepi. Per riservare un posto in sala, scrivete a Tivivo, eccetera. Io poi questo messaggio di Tommaso Minnidi ve lo lascio nel riassunto di questo video, capito così ve lo potete rileggere in calma, cari amici. Ecco, ecco caro Tommaso Minnidi, purtroppo, purtroppo io non sarò a Roma in quel giorno lì, non sarò a Roma, anche se di solito ci sarei, perché poi prima frida è Pasqua, ma per una situazione attuale non sarò a Roma. Mi dispiace tanto Tommaso Minnidi, mi dispiace tanto, ci sarei venuto tanto volentieri. Però concludo evidenziando che io spero che tu, Tommaso Minnidi, quando io sarò morto, mi celebrerai alla stessa maniera con cui stai celebrando il grande salvo e manderà. A te, Tommaso Minnidi, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.